ciao a tutti sono sincero devo dirvi che sento sempre la vostra mancanza non posso raggiungervi durante la liturgia della messa come avveniva prima però ho voluto raggiungervi con questo video salutarvi tutti personalmente singolarmente e dirvi un bel grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato dopo lo scorso video e li ho trasformate tutte in preghiera vi ho ricordato tutti davanti al signore eccomi qui mi chiederete come qualcuno che vedo mi chiede come sta don fausto e devo dirvi che sto piano piano migliorando quando vado a varese e purtroppo vado spesso all'ospedale di varese mi porta il diacono mauro e più volte alla settimana ecco quando vado a varese per la medicazione delle piaghe ecco mi dicono che stanno migliorando migliorano e quando chiedo beh ma quando sarò guarito quando verrò fuori definitivamente loro mi dicono di non avere premura perché le piaghe sono una brutta malattia e richiedono tempo per rinchiudersi per riformarsi la pelle la carne eccetera bene quello che sta avvenendo adesso c'è questo miglioramento io devo dire che è grazie anche alle vostre preghiere mi spiace di non aver partecipato in questi giorni con la mia presenza soprattutto in chiesa ad alcune manifestazioni occasioni importanti probabilmente neanche alle prossime immediate ci vuole ancora un po di tempo però ecco penso che se le cure vanno avanti bene così il morale cerca di star su perché non è sempre facile pensate è dal mese di giugno che sono qui in casa non è facile il morale non sempre è alle stelle tutt'altro però so che mi pensate mi volete bene e pregate per me io durante il giorno ecco la maggior parte del tempo la impiego nella preghiera magari nei contatti telefonici con voi e questo è già bello è un aiuto almeno anche per me cosa dirvi bene vi saluto mi auguro di rivedervi ancora qui su questo video per mantenere i contatti ma soprattutto mi auguro di vedervi fuori di questa casa in chiesa ancora con voi come prima grazie continuate a pregare a ricordarmi